In un'epoca in cui la tecnologia è parte integrante della vita quotidiana, l'associazione Robin Hood ha lanciato un allarme riguardante una questione di privacy che tocca tutti i cittadini. La presenza invasiva di telecamere nei luoghi pubblici e privati. Secondo un'indagine condotta dall'associazione, oltre il 74% degli impianti di videosorveglianza installati nelle città, nei luoghi di lavoro e nelle strutture commerciali non rispettano le normative imposte dal garante della privacy. Una situazione che solleva quindi preoccupazioni significative riguardo la libertà individuale e il diritto alla riservatezza. Noi abbiamo definito il grande fratello. Il problema riguarda diversi aspetti che sono legati sia ai lavoratori sia alla privacy. C'è questa diffusione che trova giustificazione sul fatto di tutelare il proprio parrimogno personale, però poi sfocia in una situazione che non è legittima. La leicità del trattamento c'è perché io riprendo l'area che è attinente alla mia proprietà e quindi se metto una telecamere 360 gradi che è capace anche di registrare conversazione, questa leicità ve ne viene meno. Quindi la normativa prevede che bisogna adoperare dei mezzi che sono atti a quello scopo che devo raggiungere, quindi che è legittimo, e devono essere limitati. Questo limite non c'è. Molte volte capitiamo in barri, in altre situazioni, dove vediamo che ci sono delle telecamere che sono in grado purtroppo anche di registrare le conversazioni e bisogna mettere uno stop a questo grande fratello. Per l'associazione le normative esistenti che dovrebbero regolare l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza sembrano essere largamente ignorate. Come non sappiamo chi tratta i dati, abbiamo inventato un cartello che affiggeremo nelle aree dove ci sono queste telecamere, comunicando a chi sta utilizzando quelle telecamere che non le sta utilizzando sulla base della normativa e quindi di chiedere a un consulente di adeguarsi alla normativa del garante della privacy.